L'amore è quella roccia, la parola di Dio, è la roccia a cui tante cose possono abbattere, potrebbero abbatterla, ma la roccia non è la sabbia. La casa della roccia può resistere ad ogni intemperie, ad ogni tempesta. Quando c'è l'amore vero, tutto è fermo, tutto resiste, come la parola di Dio. Ecco, allora, fratelli e sorelle, in questa celebrazione vogliamo dire grazie. Grazie per essere noi qui presenti, noi tutti. Grazie perché vogliamo essere tuoi sueguaci, i tuoi amici, i tuoi discepoli e perché no, i tuoi apostoli. Vogliamo celebrare, vogliamo annunciare non la tua morte, ma la tua vita, la tua resurrezione, perché Cristo è il vivente, Cristo vive, vive nella parola e nel sacrificio che tra poco, ecco vedremo, tra poco parteciperemo attivamente. Gesù si presenta a noi, spezzandosi ancora una volta per noi. È il pane vero, è il pane vero disceso dal cielo, che ci sfama e ci rende forti per il nostro cammino. A tutti voi, ecco, buon cammino, buon pellegrinaggio. Così sia.